Eccoci Luce, bentrovata a te e tutti i nostri telespettatori. Bentrovati nel consueto spazio dedicato alle vostre mail. Allora, quella che abbiamo scelto quest'oggi è che è arrivata al nostro indirizzo mail che vedete in sovraimpressione, altrevoci.blog.rainews24.it è arrivata appunto una mail di una nostra telespettatrice che si chiama Marcella e ci scrive Cara Giusefin, non crede che quando si parla di suicidio si dovrebbe parlare anche di quella stresciante forma di autolesionismo consapevole di milioni di fumatori che ogni giorno bruciano le proprie aspettative di longevità per aspirare nicotina e catrame. Lo trovo addirittura immorale, pensi a quanto denaro si spreca per le sigarette, denaro che magari potrebbe salvare la vita di tante persone più sfortunate. Ma noi ricchi abbiamo davvero il diritto di bruciare i nostri soldi e la salute in sigarette? Bene, allora noi per rispondere a tutte queste domande della nostra amica telespettatrice Marcella abbiamo invitato il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e bentrovato qui negli studi di Rai News. Allora, cominciamo a rispondere proprio alle domande della nostra amica Marcella. Quanto i fumatori sono consapevoli che sono fortemente a rischio? Su un piano razionale i fumatori leggono i giornali, sanno benissimo che il fumo uccide, è scritto pure sul pacchetto di sigarette, però rimangono legati al fumo perché questo meccanismo prende il nome di dipendenza. Quindi su un piano razionale i fumatori avversano il tabacco, sanno che fa male, però sono legati... Non sanno che possono morire, che la loro vita si accorcia, sono consapevoli piuttosto. Non sanno quanto, quindi c'è ancora molta informazione da fare a riguardo. Bisogna capire per esempio che il tabacco contiene una quota di radioattività, perché le forzature nella coltivazione del tabacco portano delle sostanze radioattive che vengono assimilate dalla pianta e si sprigionano quando la sigaretta brucia a 800 gradi. Però nonostante questo non si ha la voglia di smettere. Più che voglia si ha una grande difficoltà a smettere una volta che si è ingabbiati nel meccanismo della dipendenza, sia a livello psicologico che a livello fisiologico, perché la nicotina crea dipendenza, quindi si lega ai recettori addirittura in modo più forte rispetto agli oppiacei, quindi è un problema molto serio. Ricordiamo che in Italia a causa del fumo muoiono ogni anno 80.000 persone, quindi è un dato... È un'ecatombe, quella del tabacco, che unita ai 30.000 decessi l'anno per alcol fanno 110.000 morti l'anno per droghe legali, quindi è un qualcosa che deve sollecitare chi governa. Ma facciamo capire, professore, ai nostri amici fumatori che smettere non soltanto giova alla propria salute, alle tasche, ma può essere anche una scelta etica. Può essere una ragione in più per smettere, forse. Assolutamente sì. Noi abbiamo calcolato che in una famiglia dove fumano più persone, in una vita si fumano un appartamentino. Quindi è veramente... E questo denaro dell'appartamento io dico a chi lo si dà. Lo si dà in parte allo Stato perché il tabacco ha il 76% di tasse. Quindi è un prodotto... È tutto fumo, nel vero senso della parola. E poi ovviamente un fumatore che fuma un paio di pacchetti di sigarette, quindi 30-40 sigarette al giorno, smettendo di fumare si fa l'aumento dello stipendio. Ora, questo in tempi di crisi ha un suo valore. E proprio per questo abbiamo proposto, durante la giornata mondiale senza tabacco, nel maggio scorso, il progetto Spegni il fumo, accendi la vita. Lo abbiamo fatto con la società italiana... Quindi è cominciata questa campagna. Sì, la società italiana di tabacologia, con Rich Italia, che è un'organizzazione che si occupa del sostegno a distanza, e abbiamo detto, diamo un valore etico al denaro che si spende per le sigarette. Perfetto. Perché adottare un bambino a distanza equivale, grosso modo, a 7-8 pacchetti di sigarette al mese. Ecco, io leggevo appunto dei dati, sempre estrapolati dalla vostra campagna, che praticamente facendo un calcolo all'anno si può spendere, con un pacchetto di sigarette al giorno, si può spendere 1.500 euro, insomma, dipende da quanto una persona fumi. Noi diciamo 1.200 che li spendi per te e 300 puoi fare qualcosa di nobile. No, diciamo, non fumare, non spendere i 1.500 euro, però i 300 euro che possono essere utilizzati per un sostegno a distanza e per una giusta causa, e si salva letteralmente la vita di un bambino. Quindi questo può essere una forte ragione. Certo, questo è il messaggio che noi vogliamo dare e speriamo che arrivi a far capire che effettivamente c'è un problema etico. In un momento di crisi che attraversiamo spendere denaro per il tabacco è forse la cosa meno adatta da fare. Allora, evitiamo di sprecare i soldi per i pacchetti di sigarette, utilizziamoli per il sostegno a distanza e quindi per salvare un bambino che vive nei paesi più poveri del mondo. E il trionfo dell'intelligenza. Assolutamente sì. Quindi io la ringrazio per questo approfondimento. Noi aspettiamo le vostre mail sul solito indirizzo che vi ho detto in apertura. Ve lo ricordo, altrevoci.blog.rainews24.it. Arrivederci.